Dieci minuti, dieci minuti dieci al transatlantico di Torretta di Crucoli al primo gennaio 2012 Arriva il panettone, Pandora è la frutta Grazie a tutti 9 minuti Grazie a tutti Ed ecco il primo trenino della serata, quasi 8 minuti a mezzanotte Transatlantico di Torretta di Crucoli Arriba l'ananas Grazie a tutti Dove sono andate? Dove sono? Tutti in vista al transatlantico di Torretta di Crucoli Quando mancano 7 minuti circa alla mezzanotte e al primo gennaio 2012 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti